Ah, che bella dormita! Che ore sono? Oh no, sono in ritardo! Non ho neanche il tempo di prepararmi! Devo fare in fretta! Oh, so cosa fare! Speriamo funzioni! Wow, più in fretta di così non si può! Ti ho lasciato a bocca aperta, eh? Odio pulire! Perché tutto deve essere così polveroso? Ci stai mettendo una vita! Ci deve essere un modo più semplice per pulire i pavimenti! Oh, i miei capelli sono dappertutto! La maledizione di avere i capelli lunghi! Non riesco nemmeno a vedere che faccio! Mi serve una domestica o un robot che mi faccia le pulizie! Ridammeli! Smettila di mangiarmi i capelli! Ora basta! Devo fare qualcosa! Oh, delle forbici! Quello che mi serve! L'avete voluto voi! Aspetta, forse non devo farlo! Posso usare questi elastici invece! Mi sembra un'idea migliore! Prendo due ciocche nella parte anteriore della testa Le lego insieme sotto il mento, proprio così! Mi serve un altro elastico adesso! Devo separare questa ciocca così E legarla con un'altra! Metterò quest'elastico ancora più in basso Così va bene! Farò lo stesso dall'altro lato! Voglio creare un effetto reticolo! Ora so come sarai con la barba! Ok, quasi fatto! Legherò i capelli alla fine Devo solo assicurarmi che siano legati bene Sono così felice di aver fatto così invece di tagliarli Ma ho ancora una cosa da fare Porto queste dietro e... Wow! Perfetto! I capelli non mi tormenteranno più Immagino che devo pulire adesso Alt! Fermali! Salve! Sono qui per il party! Sì, entra! Ehi! Divertiti stasera! Posso entrare? Non così in fretta! Non vedi? Devi brillare come un diamante! Non ci siamo! Davvero? Ma sono così carina! Va bene! Immagino che non potrò entrare! Wow! Guarda lì! Ho avuto un'idea, sì! Serve una distrazione! Se vuole un diamante la accontenterò! Oh! E quello che cos'è? Piano! Non devo farmi scoprire! Ehi! Che pensi di fare? Fila via subito! Che maniere! Carino il mio nuovo anello! Ah! Tutto inusile! Psst! Ehi! Dico a te! E tu che sei? Guarda che cosa ho qua! Wow! Quanti lustrini! Voglio quello! Ti costerà questo? Grazie, straniero misterioso! Tu non mi hai visto! Ora mi metto al lavoro! Devo mettere questi lustrini sui capelli Così è facile, sì! Brillerò come un diamante! Basta un clic che i lustrini aderiscono ai capelli! Wow! Wow! Adoro questa canzone! Wow! Quanta luce! Lo so! È straordinario! Wow! Puoi entrare come! Grazie! Che stile da favola! Ciao a tutti! Oggi faremo qualcosa di nuovo con i capelli di Naomi! Mi giro la testa! Una volta che i tuoi capelli si saranno attorcigliati creerò uno scignone! Ok, puoi smettere! Dobbiamo solo fissarli ora! Fatto! È stato veloce, facile e ti sta bene! Dai! Non sarà così difficile! È solo un rossetto! Basta fare con calma! Ma è possibile che tutte ci riescano tranne me? Non va per niente bene! Ci rinuncio! Labbra perfette come sempre! Wow! Lei è uno schianto! Devo chiederle qualche consiglio! Ciao, Gabby! Ehm... Hai qualcosa in faccia? Usa questo! Grazie! Non è difficile mettere bene il rossetto! Guarda! Prendi il tuo rossetto preferito Traccia una linea verticale al centro delle labbra Poi unisci le labbra così Stai scherzando, vero? Fidati! Ammettilo Sei senza parole Wow! È incredibile! Augurami buona fortuna! Traccio una linea Poi unisco le labbra Ed è fatta! Divertente! Wow! Ha funzionato! Ottimo lavoro! Questo mi piace Che altro? Ah sì! L'eyeliner! Proprio quello che mi serve Giusto una codina Ok, non è così che doveva andare Ok, riproviamo Forza! Oh, ma è così difficile! Non posso uscire così! Oh no! Non ho tempo! Ok, concentrati! Piano Con calma Oh, la penna Nemmeno funziona! Eh dai! Finito! Andiamo bene! Devo togliermi questa roba di dosso Ehi Ashley, sei pronta? Dobbiamo andare su! Ashley, va tutto bene? Mi sa di no Che look interessante! Ho combinato un disastro! Tranquilla, ti aiuto io! Basterà del nastro adesivo Sul sello Usalo sui lati del viso Ah, ho capito! Beh, tenter non nuoce Ecco come applicare l'eyeliner Senza fare errori Metti una striscia di nastro adesivo Sul naso e sotto gli occhi E un'altra Appena sopra la palpebra così Lo so che sembra strano Ma funziona Prendiamo un po' di ombretto colpito Applichiamolo all'angolo dell'occhio Il nastro adesivo fa da guida, vedi? Ora togliamo il nastro e... Ta-da! Il make-up è perfetto! Look fantastico! Sono felicissima! Te l'avevo detto! Dai, su! Sbrighiamoci! Ok! Quante ciocche ribelli! Per fortuna ho questo gel Dovrebbe tenerle in posizione Non riesco a sistemare bene i capelli Che sta facendo Naomi? Posso averne un po'? Oh, certo! Quanto ne usi? Solo un po' ancora È meglio prevenire che curare Wow! Che stai facendo? Sul serio? Grazie mille! Ah, certo! Ora lo passerò tra i capelli Oh, sì! Va molto meglio! I miei capelli non si muoveranno più Ma ce l'hai messo tutto? È rimasto solo questo Come farò? Oh! Lo so! Devo prendere qualcosa dalla mia borsa Fatto! Quello che mi serve Wow! Questo filo interdentale mi salverà Passerò il filo tra i capelli La cera sul filo interdentale renderà più lisci i capelli Sta funzionando! Sono perfetti ora! Oh! Mi piacciono i tuoi capelli! Grazie, ho usato il filo interdentale Posso averlo? Eh, ok! Avrei dovuto sapere che sarebbe successo Ok, mi devo fare delle nuove amiche Questo libro è così intrigante Non riesco a metterlo giù Cosa dice? Mi serve più luce e non riesco a leggere Ma cos'è? Che schifo! Che ci fa una cosa simile? Devo pulirmi la mano Ah, dei fazzoletti Quello che mi serve No, non può essere Quella è gomma Da dove viene? Devo sbarazzarmene Ah, ma che cosa ho fatto? Che schifo! È disgustoso! Non posso più sedermi lì Leggerò sul mio letto Aspetta C'è qualcosa nei miei capelli? Sky! Ehi, ciao coinquilina Questa è la tua gomma? Io devo andare Ehi, torna qui Va bene Guarda qui Quindi? Beh... Ho un'idea Parkour Torno subito Non muoverti Sky! Che diavolo! Questo risolverà tutto Musse per capelli Perché? Hai così tanto da imparare Guarda qui Massaggio la musse Tra i tuoi capelli Come può essere d'aiuto? Adesso la gomma verrà via Wow, stregoneria! Figo, eh? Oh, santo cielo Sei fantastica! Grazie A me succede spesso, sai? Oh Non provarci neanche Non ho finta di niente Wow Quasi finito Ok Cosa mi manca? Oh, certo Devo sistemare i capelli Li faccio un po' ricci Ora devo solo aspettare Così andrà bene Ma che succede? Niente ricci Qualcosa è andato storto? Non capisco Ma... Cosa? Hai di nuovo masticato i fili? Non posso aggiustarlo Perché capitano tutte a me? Non avrò mai dei bei ricci Va tutto bene, tesoro? Ehi, che succede? La ricci a capelli non funziona Vedi? Forse so come aiutarti Basta una cara vecchia spazzola Come? Mamma voglio i ricci Fidati, prendo una ciocca dei capelli E la rotolo attorno alla spazzola Arrotoliamo per bene Stretto stretto Adesso serve un po' di calore E il phon andrà benissimo Lasciamo andare i capelli Voilà È incredibile! Continua! Facilissimo, hai visto? E stai benissimo Ecco l'ultima Ok, abbiamo finito Che ne pensi? Capelli perfetti Grazie, mamma Non c'è di che Divertiti, eh È una storia così pazza, vero? A proposito Sì Kevin vuole che vada a una festa Devi andarci Vorrei che Kevin invitasse me ad una festa Mi piacerebbe ballare tra le sue braccia Posso venire anch'io? Eh, non così Oh, non ho i miei trucchi Ci penso io, Ava Ho un po' di tutto qui E adesso diamoci dentro Sì, ok Ma ce l'ho anch'io, vedi? Ta-da! Oh, ecco il mio pennello Carino, vero? È interessante, sì Ultimamente preferisco le matitone Il contouring trasforma il mio viso Anche se all'inizio sembra strano E la fronte è pronta Adesso per la tonalità più chiara Questa parte è fondamentale Sembra pittura per il viso, vero? E adesso dobbiamo uniformare il tutto Vedi? Ha funzionato Oh, voglio provare Sotto gli zigomi, eh? Vacci piano con quel coso Sì, è sotto gli occhi Stai calcando un pochino troppo Adesso sfumo, giusto? Sì Wow Forse dovrai esercitarti per un po' Penso di essere perfetta Andiamo? Immagino di sì Che articolo interessante Devo mettermi il rossetto Che bello questo colore Grazie mamma Ciao Ciao ciao, buona serata La mia bambina Cresce così in fretta Oh no La mia camicetta Ho una macchia di rossetto E non viene via Ma ora la sistemo io Questa brutta macchia Oh, niente da fare La cipria di Mindy Avrebbe dovuto usarla Oh, quasi dimenticavo Mi serve la cipria Siediti Ti voglio mostrare una cosa Ti piacerà? Ok Ecco un piccolo consiglio Metti un po' di cipria sul pennello E applicala sulle labbra Sta ferma Giusto una piccola spolverata così Ecco, dovrebbe andare Dammi un bel bacio Il rossetto non macchia Grazie Ciao Ora devo sbarazzarmi di questa Ciao, siediti Scusa, è il mio primo giorno Cominciamo limando le unghie Ehm Fa piano Ok Scegliamo il colore Quale ti piace? Upsi Ehm Quell'azzurro è carino Ottima scelta Aspetta Fai attenzione Oh no Guarda qui cosa hai fatto Non l'ho fatto apposta Ehi Ci sei? Yuhuu Mi sono distratta Me lo presti un attimo? Il cappello? Eh no Il pennello Eh Ok Questo mi sarà utile Separiamo il manico dalle setole E mettiamo le setole sul flacone di smalto Ok Ora coloriamo le unghie In questo modo non ci saranno fuori uscite Vedi? Lo smalto andrà dritto sull'unghia Wow Davvero geniale Allora soddisfatta? Sì Fantastico Tornerò di sicuro Sono contenta di sentirtelo dire Ecco a te Te li sei guadagnati Grazie Ciao Devo ricordarmelo con la prossima cliente Sono così annoiata Ho bisogno di truccarmi Adoro questo colore Lo so Ehi Ciao Allora Posso avere questo? Per favore ti prego Non è mio No I capelli di Naomi hanno bisogno di una sistemata La aiuterò io Spruzzerò sulla spazzola del colorante per capelli Questo colore le starà benissimo Devo coprire tutta la spazzola Dovrebbe andare Non sospetterà nulla Sarà fantastico Ok E adesso? Oh I miei capelli Una spazzolata veloce Sarò pronta Oh I miei bei capelli Sono Viola Sono fantastici Farò anche l'altro lato Li adoro Accidenti Grazie Claire Oh beh Nessun problema Ho qualcosa per te E' quasi ora di andare Meglio che mi prepari Come sono i miei capelli? Forse dovrei provare qualcosa di diverso Aspetta Se ripenso all'ultima volta Au che male Ma perché continuo a farlo? Il cavo è incastrato Cos'è successo? No non va bene Non la userò mai più Ci deve essere un modo Per farmi ricci senza ferirmi Forse posso usare queste mollette Proviamo Metterò i miei capelli Sopra lo stendino E poi li avvolgerò Attorno alle aste Poi userò le mollette Per tenerli in posizione Ecco Spero che funzioni Forse sembro ridicola Ma ne varrà la pena Vediamo come sono venuti i riccioli Ah che sensazione Wow I miei capelli stanno benissimo Tempo di andare Oh perché questa piastra vuole farmi del male? Wow Che bello allenamento Come brucia Perché allenarsi è così difficile? Ok Affondi Odio gli affondi Ehm Scusami Sei in mezzo? Fai sul serio? Wow Che tipa Qualche problema? No Continua pure Fa niente Che buffa Guarda i tuoi capelli Come mi diverto Stai parlando di me? Che cosa c'è che non va con i miei capelli? Ah? Sono disordinati Ok Molto disordinati Devo legarli Oh Mi servono quei lacci delle scarpe Devo essere discreto Ah Mi serve riposo E ora di bere Sono come un ninja Non saprà mai che sono qui Devo solo essere veloce Molto meglio Ci sono quasi Il crimine perfetto Infilerò il laccio attraverso la treccia E farò lo stesso con l'altra treccia È proprio come allacciare le scarpe Continuo per tutta la lunghezza E adesso mi scioglierò i capelli dietro Non sono più disordinati E posso continuare col mio allenamento Ok Ricominciamo Wow I suoi capelli stanno benissimo Devo continuare ad allenarmi Sono meglio dei miei Sono impressionata Wow Wow Ok Che dolore Sei caduta di faccia Oh Mi spiace per te Vincerò io questa competizione I miei capelli sono bellissimi Se lo dici tu Ovvio Questo vestito mi starà davvero benissimo Wow Mi sa che è cieca Quanto mi dispiace che non ci saranno dei pennelli per il trucco Beh Dovrà optare per un look più naturale Bel vestito Lo prendo come un complimento Dove sono i miei pennelli per il trucco? Ero sicura che ci fossero fino a un minuto fa Oh no E adesso che faccio? Uno spazzolino Potrebbe funzionare Comincerò con la tavolozza di ombretti e un bicchiere d'acqua Prenderò lo spazzolino e lo immergerò nell'acqua Poi lo metterò nell'ombretto Colpisci le setole in modo che il trucco schizzi sul viso Fidati So cosa sto facendo Userò colori diversi per un effetto più audace Toglierò l'eccesso e adesso il mio ombretto è spettacolare Ciao bellissima Madame Messie e benvenuti Che lo spettacolo abbia inizio Non sono così sicuro Salve Sono senza parole Lei è davvero unica È svalorditiva Ma come? Siete troppo gentili Avrai sicuramente avuto una giornata no coi capelli Ma dopo aver provato questi fantastici hack Sembrerai appena uscita dal parrucchiere Qual è il tuo miglior consiglio per i capelli? Faccelo sapere nei commenti Condividi il video con gli amici E iscriviti al canale per altri video come questo E iscriviti al canale per i capelli